L'incontri dove la gente viaceva a telefonare col dopo barba che sa di pioggia e la ventiquattro ore perduti nel corriere della sera nel vai pieni di una cameriera ma perché ogni giorno viene sera a volte un uomo è da solo perché in testa strani tardi perché ha paura del sesso per la smania di successo per scrivere il romanzo che ha di dentro perché la vita l'ha già messo a nudo o perché in un mondo falso è un uomo vero Dio delle città e dell'immensità se è vero che tu sei e hai viaggiato più di noi vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei vediamo se si può farci amare come siamo senza violentare più con evrosi e gelosia perché questa vita estende e chi è steso dorme o muore oppure fa l'amore ci sono uomini soli per la sete di avventura perché hanno studiato da prete o per vent'anni di galera per madri che non li hanno mai svezzati per donne che li hanno rivoltati e persi o solo perché sono dei diversi Dio delle città e dell'immensità se è vero che tu sei e hai viaggiato più di noi vediamo se si può imparare queste donne e cambiare un po' per loro e cambiarle un po' per noi ma Dio delle città e dell'immensità magari tu sei e problemi non ne hai ma qua giù non siamo in cielo e se un uomo perde il filo è soltanto un uomo solo e se un uomo solo